Opsa a tutti, miei cari upsini upsine, come state? Come, come, come state? Spero bene, dai, oggi sono qui solo, solo, solo per voi, per fare un video di supergento ASMR, quindi in sostanza, non so come spiegarlo, vorrei che questo video fosse un video che voi mettete come sottofondo per tenervi compagnia più che altro. Io cercherò di parlare e di fare dei trigger molto lentamente da un orecchio all'altro. Perciò, vediamo che cosa riesco a fare. Tu indossa un paio di cuffie auricolari, come sto facendo io, stenditi sul tuo letto e cerca di chiudere gli occhi, ok? Perfetto. Io inizio. In questo video appunto vorrei fare dell'ASMR molto molto lento, molto molto lento. Molto molto lento. In questo video appunto non ti sono sempre jματα nonnali tutti. Allora anche scendo a tutti i variose lento. Ma al passo un po' non grazie a tutti Spero che questo piccolo accenno di Mount Sounds ti sia piaciuto? Adesso però vorrei fare un po' di whisper e vorrei chiederti, aiuto, come stai, come stai passando? Queste settimane, soprattutto se sei uno studente e quindi fai a scuola, come le stai passando? Perché secondo me può fare bene avere qualcuno con cui raccontare certe cose anche solo per sfogarsi perciò se volete io posso essere questo qualcuno? Ok Intanto faccio un po' di finger fluttering Perciò se vuoi io sono qui a tua completa disposizione Raccontami tutto quello che vuoi Ho capito? Vabbè dai Non preoccuparti troppo su questi singoli avvenimenti Anche io ho passato e sto passando delle settimane un po' cariche ecco E quindi possiamo soltanto dire che migliorerà Eh si migliorerà C'è qualcos'altro di inusuale che hai fatto qui in queste settimane? Non lo so se per esempio sei andato o andata in qualche posto che non avevi mai visto Non per forze deve essere qualcosa di estremo Ma anche per dire se sei semplicemente andata in una, non lo so ipotizzo In una città italiana in cui non eri mai stato, non eri mai stata E quindi sei riuscito ad apprezzarla ecco Molto interessante Io invece sono riuscito ad andare al comics che c'è stato a Ro, Ro Fiere E mi è piaciuto molto, mi è piaciuto, mi è piaciuto molto È stato veramente interessante Ho fatto anche degli acquisti molto 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 carini Ok Adesso vorrei continuare il proseguimento di questo video con un po' di Tom Clicking Facetto Facetto Mi hai vedere Mi hai vedere Oddio, scusate, vi giuro però che mi sto rilassando tantissimo, continuiamo. Dai che mi è uscito veramente bene questo don't clicking. Ok, una cosa che avevo anche pensato di voler fare in questo video è un po' di plucking, quindi un po' di pluck. pluck... pluck... pluck pluck... pluck... pluck Plack 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 pl Placca, 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 ok, adesso voglio in generale tenerti un po' compagnia perciò potremmo chiacchierare ancora un po', chi vi dice? Sei stanco o stanca? Riesci a riposare a suffigenza e bene in questi giorni? Ok, secondo me siamo tutti un po' meno stressati e dobbiamo trovare il tempo per prenderci cura di noi stessi. Perché ricordati che non dobbiamo trascurarci, vabbè. Se guardo un attimino il calendario Questo video dovrebbe uscire il 7 dicembre, giusto? Quindi è il 7 dicembre, oggi che il video sarà uscito, sarà stato pubblicato Perciò posso dire che si stanno avvicinando, avvicinando sempre di più le vacanze natalizie e per anche il Capodanno, ecco Perché se non sbaglio l'ultimo giorno è il 22, quindi da oggi che il video è uscito dobbiamo resistere ancora due settimane E poi potremo stare a casa per un po' di tempo, perciò se volete potete anche raccontarmi che cosa avete intenzione di fare durante le vacanze natalizi Sì, so che è ancora presto, però Io se volete ci sono sempre sia qua, su Youtube, sia se volete potete trovarmi anche su Instagram Se volete scrivermi io, tanto rispondo a tutti Ok Dai, credo che possiamo indirizzarci nella chiusura di questo video dicendo Cucù Cucù Ora tocca solo solo a te, ok? Mi raccomando, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto Per entrare a far parte di questa piccola famiglia qua su Youtube che è la Oops Family Poi, mi raccomando, lascia un bel like se il video ti è piaciuto, se ti è tenuto compagnia, se ti è rilassato in generale A me piace molto prendere un po' di tempo insieme a voi, ecco Poi quindi commentate, commentate con quello che ti passa per la testa, va bene? Il video di oggi finisce qui Ma se tu vuoi restare ancora, 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 ancora Un pochino insieme a me Io ti lascio di qua il mio video precedente Di qua una mia playlist E qua in basso il tasto per andare sul mio canale E vedere qualunque video tu farrai Quindi fammi sapere anche cosa ne pensi di tutti gli altri i miei video Nel caso tu non li abbia visti, ok? E questo è, dai Io adesso ti mando un grande bacio E ti do la buonanotte, ok? Buonanotte 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 Grazie a tutti.